Lasciate le braccia lungo il corpo. Osservatevi al centro, senza battere le palpebre. Continuate ad osservarvi, senza battere le palpebre. Ad un certo punto dite, vai all'indietro. Voi stessi, vai all'indietro. Vieni in avanti, come se parlaste a un altro voi stessi. Le tue braccia sono leggere, incominziano a sollevarsi. Ditele a vostro voi stesso, le tue braccia sono leggere, si sollevano. Si sollevano, si sollevano, si sollevano, si sollevano, si sollevano, si sollevano. E il corpo è pesante, 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 pesante. Questa è la prima fase. A questo punto vi cominciate ad inspirare, dalla parte alta, e trattenete. E diventate coscienti dei piedi. Espirate. Ispirate. Ispirate. Diventate coscienti delle gambe. Trattenete. Espirate. Ispirate. Diventate coscienti del bacino. Trattenete. Espirate. Ispirate. Diventate coscienti del torso. Trattenete. Ispirate. Ispirate. diventate coscienti del collo e del braccio, trattenete, espirate, inspirate, diventate coscienti della testa, trattenete, coscienti della testa, espirate, di nuovo continuando a osservarvi, fate i piedi e le gambe, inspirate, coscienti, trattenete, espirate, fate tutto il torso e le braccia, inspirate ed espirate, fate la testa, state prendendo sempre più coscienza di voi stessi, a questo punto tranquillamente immaginate di ispirare dagli occhi e di ispirare dalla cima della testa e lasciate i vostri occhi chiudersi, chiudete gli occhi. Cominciate a immaginare l'aria cresce dalla cima della testa, pigliate coscienza del corpo, pigliate coscienza di tutto il corpo, siete nella prima fase pronti per fare autoimpenosi. Mettete una mano sulla fronte e uno sulla pancia, abbassate la mano dalla fronte al petto, al cuore, posatela sul cuore, e poi sulla pancia, siete centrati, assolutamente centrati, a questo punto aprirete gli occhi, rimanrete centrati, il suono O, lentamente farete il suono O, profondo, e vi voltate, coscienti di voi stessi, voltate. Ok, portate il cuore. Ottimo. Come ti senti? Bene. Molto rilassata. Ok. Sì, sentivo parte del corpo, tipo il vaccino, le gambe, come dei scatti. Sì. Abbiamo fatto il tappo del corpo. Ti piace? Sì. Sì.